25 aprile a Subbiano, appuntamento con il ricordo della liberazione. Sì, è un 25 aprile importante, sono 70 anni. Dopo tanti anni l'amministrazione ha deciso di risistemare il monumento a Via Garibarti, c'è già i lavori e il 25 aprile avremo un monumento risistemato, sistemato adeguato perché persone, i ragazzi, tutte queste cose, le intemperie, e scede il marmo rotto e abbiamo deciso di dare una ritoccatina risistemata. Per noi il 25 aprile è una giornata importante, ricordiamo la liberazione, non dobbiamo dispergersi perché sono giornate che le persone hanno sofferto, hanno sofferto per darci questa Italia libera. L'appuntamento è a che ora? Alle 8 e mezzo la mattina, si parte dal municipio, si mette la corona, e poi si va giù alla stazione, ci incontriamo con Capolona, poi andiamo a Via Garibarti, insomma, sul monumento di Via Garibarti, poi andiamo al cimitero, facciamo San Polo, perché San Polo è un posto importante che sappiamo che Subbiano ha dato 7 morti, 8, mi sembra, 7, 8, insomma, sono i morti che ha dato alla liberazione. Erano ragazzi giovani, ragazzi di 16-17 anni, e noi dobbiamo ricordare questa liberazione andando a trovare queste persone che hanno sofferto.